Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Garcini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Pisa si segnalano due chilometri di coda per lavori tra Pistoia e Montecatini, spostandoci in A1 in direzione Bologna fino al 28 febbraio tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncobilaccio. Ancora in direzione Bologna a code per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in A1 stanotte in orario 22.6 saranno chiusi i tratti tra Roncobilaccio e Piandelvoglio in direzione Bologna e tra Piandelvoglio e Aglio in direzione Roma. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla FIPILI. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!